Radio Radicale nuovo appuntamento con le nostre interviste filosofiche oggi siamo in collegamento con Fabrizio Sciacca professore ordinario di filosofia politica all'università degli studi di Catania e oggi ora in libreria con il libro per albo versorio filosofia della giustizia fondamenti di teoria politica e giuridica ben trovato professore grazie buonasera a voi tutti allora entriamo subito nel vivo del libro che è un itinerario all'interno della costellazione del concetto di giustizia il primo capitolo è dedicato ai diritti e in particolare ai diritti umani lei mette in luce gli aspetti problematici inerenti ai diritti umani che siamo così ben disposti ad accettare in maniera pacifica ma che nascondono i diritti umani un buon numero di contraddizioni in età antica e medievale si faceva riferimento a un ordine cosmologico naturale o divino al quale l'ordine umano doveva conformarsi con l'età moderna questo riferimento trascendente viene meno e il potere deve essere fondato e legittimato quando si inizia a parlare di diritti c'è chi ancora vede un elemento naturale non transitabile dal potere quindi una natura umana non violabile non disponibile dalla quale è possibile derivare prerogative universali e c'è chi invece parla dei diritti come prodotti di un contratto come qualche cosa che viene stipulato e viene riconosciuto dai contraenti come qualcosa di non disponibile al potere i diritti però lei scrive si evolvono alcuni vengono messi in discussione altri di nuovi vengono affermati e questo dimostra che non sono qualche cosa di immutabile di universale come vogliono essere semplicemente quindi da tutelare ma qualche cosa che deve essere fondato che deve trovare una legittimazione dove trovano legittimazione fondamento i diritti umani e quali sono le contraddizioni che li caratterizzano sì grazie di questa domanda perché mi consente di entrare proprio nel vivo della discussione che ho cercato di proporre in questo testo in questo libro i diritti umani sono certamente l'espressione di un paradosso un paradosso filosofico e anche un paradosso politico un paradosso filosofico perché un concetto di per sé troppo evidente sono i diritti dell'uomo ecco e allora bisogna cercare di capire cosa sono questi diritti dell'uomo perché dirlo così suona tautologico o addirittura ridondante non è evidentemente questo che ci si può ci si può contentare appunto di questo di questo assunto e l'assunto va certamente approfondito i diritti dell'uomo sono i diritti dell'uomo in quanto persona e allora la persona è proprio il soggetto di diritto il soggetto di diritto che diventa soggetto di diritti diritti al plurale cioè di spettanze originali e di carattere etico il problema di queste spettanze originali di carattere etico che però vanno come diceva lei giustificate quindi vanno innanzitutto fatte risalire al loro fondamento e poi giustificate qual è il fondamento dei diritti qualcuno dice che il fondamento dei diritti sia l'esperienza cioè l'esperienza della sofferenza l'esperienza del male quindi è proprio da questo requisito minimo del male della sofferenza del male umano che bisogna partire per una considerazione comune di questa esperienza da parte di tutti gli esseri umani tutti gli esseri umani provano sofferenza sanno più o meno cos'è il male Wittgenstein diceva che dell'esperienza del dolore nelle ricerche filosofiche in realtà non abbiamo un'esperienza comune ma certamente un'esperienza che in qualche modo nella sua intraducibilità ha qualcosa che accomuna ecco in questo senso comune nel non non tanto nel poter essere spiegata ma in questa sua caratteristica forse inspiegabile certamente accomuna tutti allora l'esperienza della sofferenza potrebbe essere l'indice primo dei diritti umani e questa cosa certamente chiama però a una considerazione di carattere politico altrettanto paradossale perché paradossale perché il paradosso delle comunità politiche degli stati è quella di essere i principali violatori dei diritti umani ci sono stati che si chiamano e si richiamano questi concetti di diritti umani quasi come paladini della liberal democrazia ove però all'interno dei quali vi sono certo significative violazioni e ci sono stati che tuttavia non hanno al loro interno questa pretesa di richiamarsi ai diritti umani che forse non hanno nemmeno contezza di quanto li stiano violando e quindi sono anche questi dei paradossi interessanti a livello di politica interna che bisogna ai quali bisogna prestare molta attenzione ora faceva riferimento alla pluralità degli stati delle comunità lei nel libro mette in rapporto la pretesa universalità dei diritti umani con il mondo plurale in cui viviamo in primo luogo lei afferma che i diritti umani sono parte di una mitologia occidentale che si impone al mondo intero in secondo luogo lei abbatte proprio l'idea di integrazione all'interno di una società multiculturale affermando che ciò che chiamiamo così è semplicemente una dimensione in cui domina una cultura a contatto con altre culture dominate i diritti umani che si vogliono baluardo della dignità umana e della pace quindi sono tutt'altro che pacifici no certo umani sono tutt'altro che l'espressione di una di un clima di pace e di pacificazione addirittura perché i diritti umani sono richiamati e l'appello ai diritti umani viene fatto proprio in situazioni di drammaticità di guerra di mancanza di pacificazione e dove tentativi di pacificazione falliscono dunque qual è il problema il problema è questa pretesa di cui parlava lei cioè la pretesa universalità dei diritti umani in un mondo plurale in cui viviamo e da una parte questa pretesa si scontra si scontra con la esperienza originaria della del luogo presso il quale i diritti umani sono stati concepiti è un luogo che si chiama occidente è un luogo che ha inventato sostanzialmente il concetto dei diritti umani e che è un concetto tra parentesi non proprio nuovissimo a vario titolo qualcuno ha detto che si tratta proprio della morale giuridica occidentale della morale giuridica europea che già da tempi assai remoti aveva in questo concetto di libertà il suo primus appunto il suo elemento primo appunto e questo elemento primo è chiaramente un elemento che non si può assolutamente scomporre questo primus è l'uomo è un primus originario che l'essere umano quindi si declina al maschile non è qualcosa che può essere indicata in un altro modo intendo il problema maschile il genere maschile del sostantivo latino quindi non è un primum ma è un primus è qualcosa che appartiene all'esperienza dell'uomo sapiens ecco e questa cosa è molto importante perché secondo me declinare questa cosa proprio riferendoci all'essere umano uomo o donna evidentemente non sto parlando di genere maschile o femminile quanto come sostantivo appunto della parola e questo ci fa capire chiaramente che i diritti umani sono l'esperienza di un conflitto di un conflitto della composizione di un conflitto nelle società multiculturali delle quali parlava lei sia in genere una difficile difficile superamento di questo conflitto perché c'è una cultura che in genere è dominante che la cultura originaria e ci sono delle culture che si apprestano appunto a condividere esperienze con questa cultura originaria con le quali c'è però una situazione in genere non pacifica una situazione di conflitto e anche pensiamo alle migrazioni per fame o per sete ma ci sono anche delle migrazioni di conquista quindi il multiculturalismo non è mai un'esperienza pacifica è un'esperienza di conflitto. Lei questo primo capitolo lo conclude con un paragrafo che si chiama Oltre la giustizia lei cita Agnes Heller e parla di una società oltre la giustizia formale che cosa si intende? La società oltre la giustizia formale mi riferisco qui ovviamente al testo di Agnes Heller oltre la giustizia c'è qualcosa che effettivamente la Heller ci può insegnare le regole che costituiscono le norme e le regole che costituiscono il paradigma interno di governo di una comunità politica di uno Stato reggono sino a che non c'è qualcuno che le mette in dubbio e questo si scontra appunto col problema di una giustizia assolutamente formale basata sul diritto ecco c'è forse una giustizia che va al di là del diritto e ancora una volta mi tocca dire che questa giustizia che va al di là del diritto formale è la giustizia che pensa ai diritti quindi a diritti che vanno al di là della comunità politica che vanno al di là dell'ordinamento giuridico in questo senso l'Agnes Heller ci può essere d'aiuto per la sua appunto filosofia che pensa a questo tipo di giustizia oltre la giustizia oltre la giustizia formale. Passerei al terzo capitolo adesso che è una ricostruzione critica di teorie della giustizia in cui lei scrive il problema della giustizia è connesso alla questione della distribuzione di risorse sulla base di valutazioni di valori e il contesto in cui queste valutazioni di valori avvengono non può essere globale ma è sempre interno a una determinata società per la quale queste valutazioni valgono. I tentativi di far emergere degli elementi seppur minimi condivisibili a prescindere dalle società, dalle culture, dalle nazioni quindi estendibili a tutta l'umanità sono numerosi e i diritti umani sono uno dei prodotti di questi tentativi. Sono tentativi votati allo scacco secondo lei? Allora anche qui c'è un problema iniziale che forse non può essere mai superato. Una teoria è sempre autoreferenziale. Una teoria della giustizia è una teoria evidentemente e ha questa sua capacità di dire di sé però in riferimento a sé. Quindi una teoria, pensiamo alle teorie delle giustizie del liberalismo contemporaneo, il neocontrattualismo di John Rawls, oppure l'utilitarismo contemporaneo di Hare e quant'altri. Pensiamo anche al libertarismo di Robert Nozick che sono effettivamente espressioni di paradigmi dell'Occidente, sono pensabilità di condizioni della liberal democrazia applicate a punti di vista interni. Sono regolate per funzionare all'interno di una società domestica e quindi sono sistemi che funzionano innanzitutto all'interno di una dimensione di comunità politica, di società ben ordinata, quindi non internazionale e funzionano solo se funziona la teoria all'interno di essa. Cioè ogni teoria ha un paradigma meccanico per così dire che è incompatibile con qualsiasi altra teoria. Sono punti di vista interni a livello di pensabilità situazionale, situazionistica all'interno di un ordinamento politico, ma sono anche punti di vista interni all'interno della singola teoria. Cioè una teoria non è compatibile con un'altra. Questo è il tentativo che ho fatto io di far capire come funzionano queste teorie e qual è il loro ambito limite di applicabilità. Un altro concetto che fa parte della costellazione della giustizia è quello di uguaglianza. Lei dimostra che l'uguaglianza si può intendere in diversi modi e ci sono dei modi che lungi dall'essere votati alla giustizia tendono anzi a rafforzare più che a eliminare le diseguaglianze. Per esempio un'uguale distribuzione di risorse, di beni e servizi fra diseguali. Quindi non basta dire uguaglianza per dire giustizia. Cosa dire però della sempre più diffusa interpretazione dell'uguaglianza come uguale accesso alle opportunità per giocarsela in una partita alla pari? È una versione più giusta o ci sono dei problemi interni a questa concezione? C'è chi per esempio potrebbe affermare che l'uguaglianza vera non sia tanto quella delle condizioni di partenza ma quella delle condizioni finali. Ma qui si potrebbe scadere in una forma di paternalismo. C'è chi potrebbe almeno obiettare che l'uguaglianza di opportunità di partenza collide con l'uguaglianza umana a prescindere dai meriti individuali. Cosa ne pensa? Allora partiamo da un punto, un punto che John Rawls descrive magistralmente. Esistono delle lotterie, lotterie naturali e sociali per cui la nascita è moralmente, ha qualcosa di moralmente arbitrario. Non è possibile definire come punto di partenza quello che in realtà è come diceva Nietzsche di giocare a dadi. Cioè la gettatezza nel mondo, in senso heideggeriano, è proprio quello lì di cui stiamo parlando. Quindi nasciamo senza sapere quale sarà la nostra sorte. E quindi questo spiega per esempio come nella original position di John Rawls siamo all'oscuro parzialmente su ciò che siamo, sulle nostre pertinenze appunto quantitative, anche se abbiamo una contezza. Sappiamo di cosa abbiamo bisogno. Ciò di cui abbiamo bisogno sono questi beni primari, che sono quei beni senza i quali non possiamo vivere in una vita dignitosa, quindi degna di essere vissuta. Risorse, libertà e quant'altro. E anche una buona autostima, diciamo le basi appunto, le basi sociali diciamo così dell'autostima, del senso del self, in questo senso. E allora tutto questo come si gioca dal punto di vista dell'eguaglianza. Abbiamo bisogno di un'eguaglianza orizzontale, di un'eguaglianza assoluta, di un'eguaglianza distributiva in senso uguale? No, evidentemente. Questo collide, fa pugni con l'idea stessa di giustizia distributiva. L'idea di giustizia distributiva, ad esempio, tanto per citare ancora una volta Rawls, pensiamo al principio di differenza, fa sì che, dati alcune diseguaglianze economiche e sociali, la priorità, diciamo, del turno distributivo non è un'antaggiata. C'è coloro che hanno più bisogno di questi beni primari, di cui parlavamo prima. Altro, invece, è una orizzontalità basata sull'idea di un eguale accesso alle risorse, alle opportunità. Come deve essere impostato questo eguale accesso? Evidentemente è un eguale accesso che ha a che fare con l'offerta, con l'offerta di accesso ai talenti, alla verifica dei talenti, posto che però nessuno sarà mai uguale a qualcun altro, quando questa, appunto, verifica verrà posta in esito. Cioè, si capirà chiaramente chi ha più talenti di altri e come vengono usati i talenti da qualcuno o da qualcun altro. Quindi, sono due punti di vista differenti. Il primo, in verticale, l'idea che l'eguaglianza va calibrata sensibilmente alle differenze, soprattutto in termini di diseguaglianze economiche e sociali. L'altra, orizzontale, dal punto di vista dell'eguaglianza, appunto, come uguale accesso alle opportunità. Ma anche lì, però, abbiamo un filtro, che è il filtro della verifica che va progressivamente orientato step by step, in questo senso. Tra l'altro, ripensando a quella immagine della lotteria di John Rawls, come si distingue la mala sorte dalla scelta non uculata? La mala sorte dalla scelta non uculata. Questo è molto interessante. Per esempio, c'è un discorso che fa Rawls sulla sorte morale. Chi gioca, per esempio, ad azzardo. Ecco, come guardiamo nei confronti di questi? Il problema della fortuna, dell'azzardo. C'è una responsabilità in tutto questo. Altro è chi nasce povero, per esempio, e ha bisogno, chiaramente, oggettivamente di risorse. Altro è chi è diventato povero in base alla sua volontà, perché magari si è giocato tutto a carte o in altro modo. Sono due cose completamente diverse con le quali la teoria della giustizia deve fare i conti anche come teoria morale. Cioè, è un problema di orientare, appunto, la teoria anche verso una qualche idea di bene, oltre che verso una qualche idea di giusto. Ed è lì che, secondo me, la definizione dei principi di giustizia come giusti poi devono orientare la società bene ordinata, in questo senso. Quindi c'è una priorità del giusto rispetto al bene, in questo senso. Le teorie che, ora stiamo facendo un sorvolo, insomma, su queste teorie che si confrontano con questi beni, con questi temi, si differenziano, come lei ha appena detto, in primo luogo per la priorità che attribuiscono o al bene comune o al ciò che è giusto. Ma c'è un'altra distinzione interessante che lei introduce nel libro. Le teorie si distinguono rispetto alla loro prospettiva. Una prospettiva che può essere esterna, astraente, neutralizzante e che quindi presuppongono un atteggiamento, appunto, neutrale della teoria rispetto alla natura particolare delle persone che siamo in quanto parte di una collettività. Oppure una prospettiva interna, concreta e determinata che guarda gli individui con occhi attenti ai loro relativi contesti e alle loro forme di vita, diciamo così. Mi pare interessante questa distinzione e mi sembra che la storia penda per la prima versione, se non vedo male, con il neoliberalismo, figlio dell'utilitarismo, che si incarica della negoziazione di interessi individuali e con un certo formalismo che osserva i soggetti di diritto, prescindendo dalla loro particolarità di persone e contesti sociali. Questo mi pare. Ma è possibile oggi, con il predominio appunto del mercato globale, una politica ancora attenta ai relativi contesti, alle forme di vita, alle persone nella loro concretezza? E, per converso, è possibile una simile politica senza cadere nel fronte opposto, in cui ultimamente il neoliberalismo sempre più spesso finisce? Cioè, nella presenza parossistica di identitarismi, nazionalismi, settarismi in reciproco conflitto? Grazie di questa domanda, perché mi consente proprio di fare, di aprire il fuoco, il focus su questo concetto, il punto di vista interno e il punto di vista esterno. Vi sono teorie, come quelle della giustizia, diciamo, liberali, classiche e contemporanee, come ad esempio l'utilitarismo, il neocontrattualismo di Rawls, lo stesso libertarismo, che adottano un punto di vista, per così dire, esterno. Un individuo è considerato non per ciò che esso è, ma per ciò che esso rileva come persona libera ed uguale, in sostanza. È un paradigma di osservazione tipicamente formale, astratto. La critica a tutto questo nasce con vari approcci, diciamo, di tipo contestualistico, sia di marca liberale, per esempio Michael Walser, che definisce il liberalismo non un'unica arena distributiva, ma art della separazione. Cosa vuol dire la separazione? Esistono varie domande di beni sociali, i quali mutano nel tempo e valgono all'interno di ogni singola sfera di giustizia, per usare il termine appunto spheres of justice di Michael Walser, e all'interno si verifica una situazione di compatibilità tra domanda e offerta, che però può diventare dominanza o tirannia se qualche tipo di bene viene convertito in un altro bene, la religione nella politica, l'università in altre sfere di giustizia e così via. Queste ingerenze, secondo appunto Michael Walser, sono indebite, perché si ha bisogno di una domanda di contestualismo. Ciò che ci allontana ancora di più però dal problema della giustizia come prima virtù è proprio il comunitarismo, che tra tutte le forme, vari approcci appunto teorici ai problemi, diciamo così, di società bene ordinata, fa leva non tanto sulla società o sulla giustizia, ma sulle pratiche di riconoscimento. Abbandona consapevolmente l'idea che la giustizia sia forse davvero la prima delle domande da porci, per cercare di puntare su queste pratiche di riconoscimento, dove l'individuo non è più astratto, ma diventa qualcosa di concreto. E allora i codici morali, le forme di vita, le Lebensformen, appunto per usare un termine caro anche a Birkenstein, diventano ciò che costituisce il nostro vivere e il nostro esserci, esserci appunto insieme ad altri, nel senso di ad esempio coltivare pratiche come quelle della filia aristotelica, l'amicizia, il riconoscimento, l'essere insieme ad altri, comunitarismo. Il problema è che tra il punto di vista interno e il punto di vista esterno, quindi tra l'astrattismo e l'essere appunto concreto di queste forme di vita, non c'è compatibilità. E quindi o si gioca tutto dal punto di vista astratto dell'individuo come persona formale che chiede qualcosa, chiede utilità, chiede principi di giustizia, chiede libertà negative, ma è sempre un individuo astratto, oppure un individuo in concreto che però giocoforza si allontana sempre di più da questo paradigma astratto dell'idea di giustizia. non se ne esce tanto. Ci sono stati tentativi di mettere insieme queste due cose, ci ha provato lo stesso Rawls con l'overlapping consensus, il consenso per intersezione, che è appunto lo schema pienamente adeguato del primo principio di giustizia, l'idea della lealtà costituzionale che poi in concreto fa perno sulle ragioni decisive degli individui che esprimono un consenso attraverso quella lealtà al set di libertà fondamentali, ma sono forme appunto che effettivamente mettono proprio in luce questa difficoltà di una doppia appunto natura dell'essere umano e è una doppia natura che poi si verba anche in questa difficoltà di conciliare questi due tipi di giustizia, l'uno che punta sul punto di vista esterno, diciamo così, e l'altro che punta sul punto di vista interno e sul contesto. Andiamo all'ultimo capitolo. In questo ultimo capitolo lei propone, è quello un po' più propositivo, più positivo ecco, e lei propone una idea di equità come regola ideale. Ce ne vuole parlare spiegandoci quali sono i punti forti di questa sua proposta e poi mi interesserebbe anche che la declinasse, che ci spiegasse la sua declinazione nel tema di equità, sessualità e genere, come lei fa in questo capitolo. Certo, allora, dunque, questo problema dell'equità che chiude il libro parte da questa idea di equità come regola ideale. L'equità va oltre la legge. L'equità non è mai generalizzabile. L'equità è sempre del caso concreto. Quindi l'equità non ama le generalizzazioni e le categorizzazioni, anche quando si occupa di casi concreti. L'equità è sempre una introspezione, un bilanciamento che gli operatori di giustizia, gli operatori sociali, i filosofi politici, i giuristi fanno in considerazione di un caso concreto. Se questo caso concreto viene standardizzato e generalizzato, si affievolisce di la stessa di equità, perché tende ad andare verso il normativo, verso la norma. Dunque c'è da una parte la norma regola e dall'altra l'equità come regola ideale, ma come regola ideale del caso concreto. Il problema della sessualità è evidente, ci tocca particolarmente perché sono argomenti molto attuali, diciamo così. Pensiamo a tutto ciò che riguarda l'identità sessuale. L'identità sessuale non ha esattamente a che fare col genere, ma con il sentire un'identità, che può essere che è qualcosa di differente dal dato meramente biologico. Come la collochiamo questa cosa? Qualcuno ha parlato in questo senso di categorie vulnerabili. Però se noi pensiamo, ed è qui che soccorre anche l'idea di equità, che ogni elemento che può richiamarsi a una minoranza può perciò stesso equivalere a una protezione e quindi a un elemento di debolezza, forse ci sbagliamo, perché anche qui bisogna guardare il caso concreto. Ci sono certamente, come dire, situazioni che vanno protette oggettivamente, ma che poi vanno verificate introspettivamente, perché potremmo essere in presenza di situazioni che non richiedono particola di protezione, o altre che appartengono ad altri tipi di, ad esempio, di categorie non riconosciute tra quelle più vulnerabili, che magari appartengono invece a una capacità di richiamare attenzione da parte delle istituzioni. Gli anziani non per forza devono essere vulnerabili. Ci sono anziani ricchi in ottimo stato di salute, ci possono essere giovani invece che stanno bene, ma che oppure si possono ammalare da un momento all'altro, possono cadere in circostanze economiche assai disgraziate. Tutto questo dipende appunto dei casi. L'equità ha a che fare proprio con questo tipo di introspezione. La sessualità, l'identità appunto sessuale, sì, forse richiede equità da questo punto di vista, ma anche lì occorre non generalizzare troppo, altrimenti si passa da un lato all'altro, cioè dalla particolarità alla generalizzazione e poi si creano gli stereotipi normativi, i luoghi comuni, i pregiudizi e forse a volte anche i privilegi. Abbiamo terminato il nostro tempo. Abbiamo parlato con Fabrizio Sciacca, autore del libro Filosofia della Giustizia, fondamenti di teoria politica e giuridica, pubblicato da Albo Versorio. Grazie professore per la disponibilità, per la chiarezza. Abbiamo inevitabilmente, come si può fare in mezz'ora, fatto un sorvolo dei temi qui raccolti, ma è un libro che va studiato, va meditato, va approfondito. Grazie professore. Grazie mille a voi. Un saluto ai radioscoltatori e alla prossima.